Il 25 marzo è la giornata nazionale dedicata a Dante Alighiera, istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Cultura Dario Franceschini. Il 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia, si celebra in tutta Italia e nel mondo il Genio di Dante, con tante iniziative organizzate dalle scuole, dagli studenti e delle istituzioni culturali. L'edizione del 2021 inoltre ricorre nel settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta. Anche il Comune di Agropoli, la Fondazione Vico e il Liceo Gatto, in occasione del Dante Dì, presentano omaggio a Dante e quindi uscimmo a rivedere le stelle. I giovani leggono Dante. L'appuntamento è per domani, giovedì 25 marzo, alle ore 17.30. È possibile seguire la diretta dell'evento sul sito www.viviagropoli.it e sulla pagina Facebook Città di Agropoli.